Con il Ponte Pasquale comincia ufficialmente anche per lo spezzino la stagione turistica. I flussi saranno intensi soprattutto nei giorni di sabato e domenica tenendo conto del bel tempo, ma analizzando il settore non si può puntare il dito solo sulla meteorologia. A detta dell'associazione di categoria Confartigianato, la stagione 2018 dovrà puntare soprattutto alla qualità perché una manciata di recensioni negative a livello mediatico può incidere fortemente su tutto il settore. Nelle scorse settimane, ad esempio, sono arrivate 35 disdette in pochi giorni. Noi dobbiamo dare un'immagine positiva del territorio e soprattutto cercare di elevare la qualità. Questa è la scommessa per i prossimi anni, per il prossimo futuro, se vogliamo consolidare i risultati importanti che siamo riusciti a ottenere in questi anni nel turismo. Per l'associazione di categoria, l'istantanea è data dal Consorzio e degli albergatori del centro città che quest'anno punta ad acquisire nuovi associati. Le strutture ricettive estralberghiere sono oggi 2.700 in provincia di Spezia. Corre il rischio purtroppo di avere delle strutture non all'altezza, è questo il problema. Quindi la risposta del Consorzio è quella di far entrare nel Consorzio e di far sì che i consorziati aumentino il livello complessivo di offerte e di qualità. Il Consorzio degli affittacamere del centro ha recentemente modificato lo statuto e raccoglierà tutti coloro che operano nel centro storico arrivando ad un totale di 200 operatori per un totale complessivo di 800 camere. In tutta la provincia sono presenti oltre 2.700 strutture. In tutta la provincia di Spezia